Con l'avvio della fase 2 siamo tutti chiamati a una grande opera di ricostruzione e che ci riporta a memoria il periodo post bellico e del piano Marshall. Marshall, segretario di Stato, nel 1947 presentò questo suo piano all'Università di Harvard, evidenziando la necessità di interventi massicci di tre o quattro anni in Europa ad evitare problemi di carattere politico, sociale ed economico. La risposta fu immediata, 12 miliardi e 7 dollari di investimenti, di cui 1,3 in favore dell'Italia. Non fu un atto di generosità, perché in questo modo l'America pose un limite a eventuali tentazioni espanzionistiche della Russia e perché si trattò di finanziamenti in minima parte a fondo perduto. Ma è l'impostazione complessiva che ne determinò il successo. Anzitutto interventi ripetuti durante tre o quattro anni, finanziamenti di lunghissimo periodo, destinati a creare benessere e quindi ad aumentare i consumi, destinati a finanziare investimenti in settori produttivi e con altri ritorni occupazionali. Potrebbe essere questa la ricetta oggi per l'Europa. Per l'Italia anche per le cose da evitare. All'epoca era previsto che questi finanziamenti venissero utilizzati in maggior parte per l'acquisto di beni di produzione e macchinari da parte dell'America. Questo vincolo però non fu gradito alla maggior parte degli europei e in particolar modo a noi italiani che utilizziamo prevalentemente per l'acquisto di beni di prima necessità e combustibile. Le altre cose da evitare da parte dell'Italia che a loro esistevano sono la mancanza di coordinamento al punto tale da prevedere un'autorità di piano indipendente dai ministeri, formata da professionisti e da esperti con capacità decisionale e con l'obbligo di andare a verificare successivamente il bilancio delle cose fatte. La finalizzazione degli investimenti è stato sempre un nostro problema. Forse è quella che ci porta a non accettare adesso il MES perché dovremmo utilizzare quei fondi esclusivamente per il settore sanitario. E allora ci fu uno strappo analogo perché ben 15 miliardi nel 1948 furono utilizzati da Fanfani per la creazione del cosiddetto piano casa, la realizzazione di 350.000 appartamenti con lavoro per 600.000 operai. Fu una grande realizzazione che però non reso contenta l'America. Che cosa mi è rimasto di quel piano Marshall? Il ricordo di un gioco da tavolo su cui si poteva ricostruire tutto quello che era stato abbattuto precedentemente. Case, ponti, strade, intere città.